La tragedia di Monteverino nella Marsica con un tragico epilogo, l'ultima brutta avventura di tre escursionisti a Rigopiano terminata per fortuna bene e tanti altri episodi che accadono in montagna impongono una seria riflessione sulle modalità di accesso in quota e anche sull'equipaggiamento da portare con sé nelle escursioni. Ad intervenire su questo tema è stato il presidente della provincia Angelo Caruso che ha proposto un braccialetto o un rilevatore satellitare comunque per aiutarsi sia ad attivare eventuali soccorsi che a velocizzare e migliorare il recupero in caso di difficoltà per farsi individuare con più facilità. Parliamo del braccialetto elettronico, questa fu la soluzione che individuai o comunque proposi alla regione Abruzzo due anni fa, raccogliendo comunque interesse e disponibilità. Oggi credo che questo tema sia tornato di attualità e sia soprattutto in cantiere, in fieri, circa la possibilità di emanare una normativa che sarebbe stato giusto e logico che emanasse lo Stato centrale. Ma in assenza o comunque rispetto all'inerzia del legislatore nazionale la regione Abruzzo fa bene e farebbe bene ad adottare una misura. Perché una misura che consente il ritrovamento rapido e veloce soprattutto del disperso? Perché sappiamo che soprattutto il disperso o coinvolto da una valanga o semplicemente così isolato da un possibile collegamento di soccorso ha un tempo abbastanza limitato per essere in qualche modo soccorso. Per il Presidente della provincia servono misure rigorose, una formazione adeguata per l'attività escursionistica e di alpismo e l'obbligarietà di guide patentate per i siti più pericolosi. Caruso spinge la regione ad adottare una legge regionale in tal senso. Insisterei perché si recepisse questa proposta o quantomeno i propositi annunciati dalla regione Abruzzo si traducano in una norma, in una legge regionale obbligatoria. Coloro che si esercitano quindi in attività, si dilettano in attività escursionistiche hanno la possibilità di essere soccorsi in tempo utile e comunque di segnalare anche preventivamente l'introduzione all'interno dei bacini montani importanti come quelli della regione Abruzzo.